Buongiorno a tutti, sono Maria Grazia, titolare della G&G Immobiliare e oggi ci chiediamo perché scegliere la nostra agenzia. I clienti si rivolgono a noi quando decidono di vendere casa. Spesso e volentieri hanno già intrapreso privatamente in autonomia per un periodo di tempo il percorso della messa in vendita del proprio immobile e le problematiche che riscontriamo più frequenti, che ci vengono riportati dai clienti stessi, sono quelli ad esempio di una non corretta o non congrua valutazione dell'immobile, della difficoltà a livello di promozione dell'immobile attraverso social, attraverso portali, la difficoltà di seguire tutta la parte burocratica e la difficoltà nella trattativa con l'acquirente. Quindi quando il cliente arriva da noi desidera avere un vantaggio affidandosi a chi assicura loro competenza, comunicazione e assistenza e quindi quello che cerca il cliente è un servizio che combini personalizzazione, un metodo garantito e la massima redditività. Offriamo quindi un servizio che garantisca la massima promozione grazie a valutazioni reali, ad un piano di marketing poderoso e ad una curata selezione della clientela. Manteniamo quindi le nostre promesse grazie anche all'ottimo rapporto fra le case acquisite e le case vendute e il bassissimo margine di trattabilità. Se volete saperne di più ci potete contattare.